Serata evento a Rosetto degli Abruzzi, domani sera Luce d'Abruzzo, un evento, una cena a buffet per raccogliere i fondi. Ci spiega Riccardo Cerommi qual è la finalità. Faremo questa catalogazione a partire da una ricognizione che sarà mondiale, perché i quadri di Pasquale, Raffaello e Luigi sono sparsi in tutto il mondo. Cito alcuni esempi, Pasquale Cerommi, un quadro, lo acquistò il presidente Wilson degli Stati Uniti. Quindi faremo questa ricognizione, poi catalogheremo tutte le opere, anche attraverso dei supporti web, informatici, attraverso una piattaforma, con la partecipazione di Wikimedia, perché noi abbiamo anche all'interno di questa equip la responsabile di Wikimedia Abruzzo, che ci metterà in contatto con i livelli più alti, per dare una più grande risonanza a questo evento. L'evento della raccolta fondi della cena a buffet è promosso dal Lions Club di Roseto, Valle del Vomano. Ecco, rientro un po' in quella che è l'attività del Lions. Certo, noi ci occupiamo un po' di grandi temi, come per esempio la salute, e nell'ambito di questo grande, diciamo, c'è il tema del diabete, della vista, dell'oncologia pediatrica. Ci occupiamo di ambiente, però la cultura è uno dei nostri temi, ci teniamo insomma a svilupparlo. Anche perché, come non occuparci appunto specialmente a Roseto, di questa che io chiamo la dinastia Celommi, perché in effetti è veramente dal bisnonno fino a poi spero che Riccardo sicuramente continuerà questa tradizione. Ci terrei moltissimo a ringraziare Riccardo Celommi, che ha dipinto un quadro proprio in onore del territorio di competenza, la fra virgolette del nostro club, che abbraccia da Roseto tutta la Valle del Vomano fino ad arrivare ai nostri monti.